Ieri a Montecitorio è stato inaugurato il club Salernitana. Presenti i parlamentari salernitani e il presidente della squadra Granata, Danilo Rivolino. Nella ringraziare gli esponenti politici salernitani per la bella iniziativa, il numero uno Granata ha colto la palla al balzo per dare la sua visione e il rapporto tra impendoria e mondo della politica e della burocrazia. Danilo Rivolino ha ribadito la necessità che queste non siano ostacolo ma stimolo e sostegno per chi investe, creando valore e ricchezza per sé ma anche per l'indotto. Il presidente Granata non ha fatto riferimenti specifici ma, stimolato successivamente dai cronisti presenti, si è soffermato sulla convenzione per la Rechi. In mattinata al comune si era insistito molto sul concetto di accordo raggiunto con un lavoro di squadra ed in piena concordia. Anche la salernitana rappresentata di Milan dal professor Rino Sica aveva espresso una moderata soddisfazione, fermo restando che il punto di partenza era stata la concessione e che la convenzione non è certo quel che sperasse. A spazzare via i dubbi ci ha pensato Danilo Rivolino che si è dichiarato contento a metà e che avrebbe voluto qualcosa in più. La firma della convenzione permetterà alla salernitana di soffrire l'impianto per le gare ufficiali di amichevoli e per venti allenamenti senza consentire al club di porre in essere altre iniziative. Ecco perché ieri prima non è contento e vado da ancora altre possibilità. Dai comuni limitrofi non mancano corteggiamenti di inviti a valutare altre soluzioni, sia per il centro sportivo sia per l'eventuale edificazione di un nuovo stadio. La convenzione non risolve i problemi, non consente alla salernitana di crescere con la velocità che avrebbe voluto ieri volino, almeno con riferimento alla possibilità di sfruttare lo stadio tutto l'anno e di innalzare i ricavi in tal senso. C'è poi la questione centro sportivo che dovrebbe arrivare ad un punto di svolta entro fine mese. La salernitana sta pensando ad altre aree oltre a quella di Forni per la quale è sorto più di qualche intoppo. Quello tra la politica e il pallone resta un rapporto complicato. Deve passare un messaggio importante. Il calcio più di ogni altra industria ha bisogno di una simbiosi tra pubblico e privato. Non ci può essere un dualismo, una contrapposizione, una gara tra pubblico e privato, perché noi giochiamo in un campo che non è nostro, noi abbiamo bisogno dell'ordine pubblico, abbiamo bisogno che Salerno si trasformi in una sport city, abbiamo necessità che lo sport sia a livello isotopico, lungo in tutte le direzioni, quel lab di trasferimento dei valori sociali e della sana legalità che deve andare dai piccini fino agli adulti. Io ho definito lo stadio il luogo dell'economia più di ogni altro luogo cittadino. Un monumento importante, il luogo più grande di assembramento della città. Dobbiamo però capire che ci sono delle esigenze che vanno condivise, vanno contemplate. Lo dico a tutti coloro che fanno la politica, la squadra di calcio ha proprio necessità di avere un rapporto simbiotico con le forze politiche, a tutti i livelli nazionali, locali, regionali, reglienti. Ha bisogno di fare sintesi tra ciò che è giusto nell'immediato e nel medio e lungo periodo. Perché io capisco che a volte, ahimè, non vorrei oraizzare critiche ed essere polemico perché anzi sono tutt'altro che polemico, però a volte la politica non deve correre il rischio di vedere le cose nel piccolo periodo, nel breve periodo, perché logicamente capisco che anche la politica ha necessità di capitalizzare gli sforzi quanto prima. Però va anche contemplato un progetto, un progetto che deve stare in piedi. Salerno può diventare veramente una Sport City.